Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video tutorial, già avrete sicuramente rezzato il titolo, si tratta di un tutorial con la Sublooming di Nabla, a me piace tantissimo questa palettina, la volevo utilizzare e quindi ho utilizzato questi ombretti, ho riportato soltanto gli ombretti che ci sono qua dentro, quindi ho utilizzato solo ed esclusivamente lei. Questo è il trucco che ho realizzato, non so, spero che vi piaccia e ovviamente vi lascio al video, noi ci vediamo dopo, ciao! 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 ! Ciao! Ciao! J change. Hi. Hey. Here you go. Bye. Probably you gave me money. Bye. Bye. I touched me and I turned away. Be it if you told me like I turned away. Bye. Ready? Bye. Bye. Bye.